Mi rende un pochino perplesso l'idea che vede accostato Marco Piazza alla Fiorentina per il semplice motivo che Piazza è uno di quei giocatori per cui la Juventus ha speso veramente tanto in relazione all'Italia, all'età scusate, mi stava sbagliato detto all'Italia, vabbè all'età, è un classe 95 comprato dalla Juventus per 22 milioni di euro due stagioni fa, ha avuto un infortunio che ne ha pregiudicato le prestazioni e adesso sinceramente si sente che Piazza innanzitutto dovrebbe essere usato come contropartita tecnica per arrivare a Mirkovic-Savic Adesso si sente anche di un interessamento in giro della Fiorentina, una Fiorentina che secondo me è interessata effettivamente a Piazza ma non c'è nulla di particolarmente serio per un motivo molto semplice ragazzi, il motivo per cui vi dico è che la Juventus non cede i calciatori che ha acquistato a determinati prezzi a prezzi inferiori, quindi di conseguenza se la Fiorentina vuole Piazza deve sborsare penso almeno 25-30 milioni Quindi un acquisto così per le casse della Fiorentina è abbastanza oneroso e sinceramente non ce la vedo la Fiorentina a presentarsi dalla Juve e spendere 30 milioni di euro per Piazza Vedo più la Juve cederlo all'estero Piazza o paradossalmente metterlo veramente con la Lazio dell'affare Savage Tra l'altro una cosa molto importante è che ieri si è parlato di un interessamento della Juve per Chiesa, si era parlato di una bufala di mercato in cui si diceva che la Juve avesse fatto un'offerta di 50 milioni di euro più due contropattie tecniche per Chiesa Cioè praticamente un altro pocce lo abbiamo dai reni a loro, cioè se vuoi un rene te lo do della serie, in realtà non è vero niente, io non penso che la Juve possa andare a spendere quella cifra per Chiesa Che comunque vive un momento di esaltazione ma ancora deve dimostrare molto e deve dimostrare molto veramente non solo per me ma per tutta l'Italia E poi è una cosa molto particolare perché anche nell'affare Chiesa secondo me Piazza non che c'entri molto, nel senso sì, giocano in due ruoli analoghi Piazza può fare ruolo di Chiesa, Chiesa può fare ruolo di Piazza, se possono invertire fanno diversi ruoli Però comunque io veramente è un affare che la vedo abbastanza complicata, in generale l'interessamento della Fiorentina è abbastanza veritiero secondo me Ma non c'è stata alcuna offerta ufficiale né c'è la volontà secondo me di spendere così tanti soldi per Piazza da parte della Fiorentina Che con 30 milioni di euro potrebbe puntellare più reparti invece di spenderne tutti insieme per un unico colpo